Ciao a tutti cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Siamo in questa mappa che si chiama Not Checkpoint, che devo dire la verità mi spaventa un pochino perché come sapete quando non ci sono i checkpoint non mi trovo molto a mio agio. Allora non ci sono molti checkpoint, ah no, non ci dice, non c'è nessun checkpoint quindi se muoio ritorno qua in questo god block che c'è in questa stanza. Il mio obiettivo è facile, devo aprire l'iron door e prendere il mio premio. Ci sono le regole ma sono le classiche e gli piacciono le tartarughe a questo tipo, che è una cosa interessante Nel senso, non a tutti piacciono le tartarughe. Non so se avete visto il vlog che ho caricato dallo zoo del Giappone, però lì ho trovato una tartaruga delle Galapagos che era, porca vacca, era gigante. Comunque ho una chiave, ho una una cosa che mi fa tornare allo spawn e la chiave, ok, torno allo spawn, però ho la chiave, con la chiave posso aprire questa immagino e ho questo bottone che posso metterlo sul blocco di diamante perché ho l'impressione che sarà una cosa moolto moolto tripperosa teleport Allora stiamo calmini il mio obiettivo è andare di là c'è qualcosa che posso fare, il libro non mi serve, posso craftare, che è una cosa interessante questa è la chiave numero uno che serve per aprire questa ma non c'è niente all'interno ehm... devo capire che cosa fare level one key, ok c'è il blocco livello 2, teletrasporto in qualche modo devo poter andare là sopra, mi viene da dirvi non è che posso buttare questo là sopra, no, non è stata un'ottima idea bene iniziamo a bloccarci, a quanto pare livello numero 2, teletrasporto mi viene da dirvi che usiamo il comando di teletrasporto ma non si può fare quindi... mi sono perso qualcosa per strada sicuramente il fiorellino? posso usarlo? no, non posso usarlo il fiorellino crafting non mi interessa, i libri non mi interessano questo non posso aprirlo se non con questo, non mi interessa, non mi interessa allora vediamo, magari c'è qualcosa di interessante electartus, no? no, oi non volevo magari c'è scritto qualcosa di interessante ragazzi sarò sincero mi sa che il mio obiettivo cosa posso fare è usare davvero il teleport più che altro perchè qua mi dice teleport e non posso fare nient'altro la chiave non mi dice niente, non ho niente nell'inventario, il libro non mi dice niente è una cosa che mi viene in mente quindi, ehm, sto guardando a 2, 10, 8, teletrasportiamoci ok, set block, clicco il bottone e avrà fatto qualcosa il bottone immagino e perchè immagino che abbia fatto qualcosa oh c'è una leva, ok ho cliccato la leva non so se serviva a farlo ahhh ah, il bottone ha settato un blocco se ormai devo tornare allo spawn ora ci sarà qualcosa di utile oppure no, è un casino sta mappa ok, andiamo, livello 1 c'è, qua, non c'è niente, qua, livello 2, teletra uh, ok, ora c'è una cesta, con un bottone che si può mettere al robo io torno qui, oddio che è successo, no, no, sono morto, perchè sono morto ora metto questo qui e clicco il bottone e posso salire, perfetto la leva l'ho già cliccata, uh, che succede qua, crafting oh, ah, con questa palla posso rompere le cose interessante, infinito addirittura, ottimo allora, con grave le sabbia posso fare la concrete powder se non sbaglio, in teoria, questa cosa serve per la domanda ora, red concrete powder devo mettere qua dentro per fare red concrete powder ah, devo tornare allo spawn, perchè allo spawn, indovinate un po' c'è il fiorellino è rosso il fiorellino? è rosso il fiorellino boom, abbiamo il rose red qualcosa di utile di nuovo, no? ok, ma, ragazzi, sto impazzendo, casino, devi sempre tornare allo spawn per fare cose allora, come si faceva? sbaglio, no, aspetta, così no, contrario ok, non mi ricordo come si fa devo cercare su internet anzi, no, aspetta, c'ho i comandi red concrete powder eccola, facciamone otto e andiamo avanti ora posso mettere qua dentro questa che mi dà un bottone che posso piazzare qui e, ok devo dare energia a questo blocco quindi, livello numero 5, redstone ah, quello che piace a me ora, devo dare energia a quel blocco lì quindi dovrei dare energia a questo blocco ma ti dirò facciamo così poi facciamo ehm così no, 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 calmo un po' ok, ok poi facciamo così questo lo spegniamo e facciamo così non funziona devo prendere questo blocco e portarlo indietro anzi no anzi no beh, oddio, si però no, così mi blocca quello io voglio powerare quello complicato complicato mi piace ora, se io faccio così e faccio così posso fare così e di qua l'energia arriva perfetto ora mi manca quest'altro livello sblocchiamo questo sblocchiamo questo anzi no, aspetta devo attivare questo ma bloccare questo sbloccare questo e abbiamo stanza segreta aperta ok stanza segreta aperta livello numero 6 emergenza potion cloner oddio che bisogna fare qua emergenza ah, c'è della lava sicuramente dovrò fare qualcosa con la lava cioè con la pozione della lava questo non mi serve più mettiamo da parte niente, torniamo lo spawn immagino ci sia una stanza segreta che sia aperta e infatti oh e dentro abbiamo un macello di roba uno smacello di roba niente, immagino di dover fare eh però aspetta non c'è l'acqua è un problema perché non c'è l'acqua dovrebbe esserci l'acqua questo è ancora chiuso teleport va bene non c'è acqua qui in giro no, vero il fatto che non ci sia l'acqua per me è un problema neanche grosso in realtà perché senza acqua non posso fare le pozioni quindi o compare qui l'acqua all'improvviso e l'acqua non c'è poi abbiamo un problema addirittura l'anvil non so magari perché non posso mettere le pozioni vuote scusa non ha senso ah posso rompere anche il vetro perché no aspetta perché posso rompere il vetro rompiamolo rompiamolo magari mi da qualcosa di utile non ah ah ok rompendo il vetro si è riempito il tutto allora mettiamo qua dentro le pozioni ci mettiamo il magma cream anzi no 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 errore 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 prima la netherworld e poi il magma cream e dovrebbero diventare delle pozioni della resistenza al fuoco in teoria a questo punto qua c'è scritto potion cloner vuol dire che se ne faccio tre e li metto là dentro mi dovrebbe dare infinite in teoria dovrebbe funzionare così perché vi ricordo che per andare avanti poi ogni volta dovrò attraversare questo coso di lava che non non so neanche quanto è lungo in realtà spero non troppo interessante questa mappa ragazzi interessante un bel concetto mi piace perfetto pozione della resistenza al fuoco se io metto oh schere infinite ne abbiamo e va bene va bene allora e prendiamo la pozione due a tre minuti direi che tre minuti sono più che sufficienti spero andiamo alla prossima stanza ah no c'è una cesta e la cesta mi da un bottone quindi in realtà qua non ci devo neanche tornare mi verrebbe da dirvi a meno che non ci sia qualche cesta nascosta sotto la lava oh no aspetta devo mettere qua boom ok livello numero 7 livello numero 2 contengo la bellezza della natura ok qualcosa mi dice che devo tornare al livello numero 2 torniamo a livello numero 2 livello numero 2 ok livello numero 1 ah aspetta posso rompere il vetro ah fuori livello numero 7 D uguale 1 non ho capito D uguale 1 qua posso rompere questi non posso peccato posso rompere il flower pot mi dice rompiamolo il flower pot perché no perché no D uguale 1 ma lo sai che mi sta cosa vuol dire D uguale 1 D1 bella domanda è la bellezza della natura flower pot ti metto qui no non so oddio non ne ho la più minima idea contengo la bellezza della natura il vaso il vaso contiene i fiori la bellezza della natura il libro no questa ragazzi è una mappa puzzle come si deve non lo so ragazzi sto vedendo un po' di roba a caso ma insomma c'è flower il flower pot per forza flower pot ma non mi da le scale torniamo allo spawn ci sarà qualcosa che mi manca qua non c'è niente qua non c'è niente qua non posso rompere niente ah c'è un'altra cesta eccole quattro scale stavo impazzendo ti giuro perfetto posso piazzarle 1 2 3 4 e alleluia ora livello numero 8 domanda ah un'equazione allora posso mettere questa sul blocco di diamante che non c'è però va bene allora a livello con la redstone b livello precedente c prossimo livello ci sono delle bottiglie e un foglio di carta e non vi do l'esperienza si prendo un foglio di carta così so rispondere ho il mio quadernetto degli avengers dal bravo scolaretto ah fammi scrivere l'equazione 2a più b più c più d più 10 ah e d uguale a 1 bastardo d uguale a 1 ok questo è il livello 8 allora il livello della A è uguale a 5 perché il livello della redstone era 5 7 beh D è 1 perché ci ha detto il libro C invece è il prossimo livello cioè 9 da 10 più 16 più 11 fa 37 farebbe ridere se io avesse sbagliato tutto boom 37 ha fatto qualcosa si è comparso il bottone perfetto oh no parkour no dai era così divertente fino ad ora mi ha messo pure un'equazione di matematica oddio no devo andare di qua di qua di qua di qua ce la farò uh schere ora sto volando ok livello numero 10 ancora non completo eh eh ma che lo sapevo lo sapevo livello 10 i blocchi invisibili eh 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 cosa blocco di smeraldo ah smeraldo all'inizio boom bc's claim your reward checkpoint eh ah che ora posso avere un checkpoint congratulations eh scusa questo è ah checkpoint eh eh no checkpoint ok penso di aver sterminato la mappa bella però bella questa è una puzzle map di quelle belle che dici oh mamma mia ora che faccio complimenti al creatore davvero davvero bella eeeh non c'è scritto chi l'ha fatta io mi son perso chi l'ha fatta però va bene uguale per questo video è tutto ringrazio tantissimo per la visione ci vediamo nel prossimo episodio di minecraft in qualsiasi altro gioco e niente ciao turudurudutti grazie a tutti Grazie a tutti